ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono jorret e oggi parliamo del grande fratello vip possibile squalifica per samantha de grenet vediamo perché dopo la diretta di ieri tra stefania orlando e samantha de grenet le cose non vanno tanto bene e questa mattina infatti in casa c'è stata una forte discussione gli animi si sono accesi per un diverbio su dove poggiare le stoviglie ancora gocciolanti e nella tarda serata stefania ha provato ad avere un chiarimento con samantha dopo aver saputo che quest'ultima le ha dato della psicopatica ed essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste ma anche in questa situazione gli animi si iniziano a scaldare tu hai un figlio a casa dovresti saperlo che le parole hanno un peso è la frase che ha fatto incazzare samantha de grenet e poco dopo lo sfogo con sonia ma io ti uccido cacciate mi ho detto che l'ho uccido ora il web ha lanciato l'hashtag fuori samantha che è già in tendenza su twitter e vuole la squalifica per le gravi affermazioni che ha detto e voi che cosa ne pensate scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da jorette ciao